Carlo Cavalli, 48 anni, è un alpino piacentino di Agazzano, ma alla Dunata Nazionale di Maggio non ha potuto partecipare. Era in Afghanistan insieme alla Brigata Iulia. Partito come tenente colonnello, è stato promosso sul campo e poche settimane fa è tornato con il grado di colonnello. Il primo giorno della Dunata fu protagonista di un'aspettata sorpresa. Durante il collegamento in diretta tra la base di Erat in cui si trovava e l'arena da Turi, si presentò la figlia Camilla di 8 anni. È stato un po', devo dire, un colpo mancino, perché io ero a conoscenza che c'era questo collegamento, questa diretta con Piacenza, al quale di tutte le adunate che ho fatto finora è forse l'unica che ho mancato. Ero a conoscenza di questa diretta, ne ho partecipato, chiesto al mio comando se potevo partecipare. Poi questa è stata una sorpresa. Non vorrei dire una carambata, come si usava in passato o in qualche trasmissione televisiva, però è stato sicuramente piacevole, perché vedere la figlia a zompettare tra le sedie vicino al comandante delle truppe alpine col cappello d'alpino è stata una soddisfazione, mi ha fatto molto piacere. Figlio di un pilota dell'aviazione e dell'esercito e dunque abituato ad una vita itinerante, dopo le superiori iniziò all'accademia e da lì una lunga e pluridecorata carriera tra gli alpini, Pinerolo, Verona, Bolzano, ma anche l'esperienza alla Nato in Belgio. Cavalli al momento è capo ufficio operazioni e pianificazioni e addestramento, grazie a carisma ed edizione il prossimo anno sarà il comandante del quinto reggimento di stanza a Vipiteno. È un ruolo nuovo e di responsabilità. Io ho la fortuna da una parte che torno a Vipiteno, dove ho comandato il battaglione solamente l'anno scorso e quindi conosco buona parte degli ufficiali, dei sotto ufficiali, dei volontari che ne fanno parte, ne conosco la struttura, le potenzialità. Ne sono particolarmente contento perché anche il battaglione dove sono nato da tenente, dove ho fatto i miei quattro anni come ufficiale comandante di Plotone e di compagnia. All'attivo ci sono anche tre missioni nei Balcani, una in Libano e quella recente in Afghanistan, un'esperienza che definisce umanamente e professionalmente ineguagliabile, 180 giorni in cui il pericolo è costante. I bilanci sono tanti e sostanziali. Credo che l'Afghanistan, come teatro ad alta intensità, abbia portato un'esperienza altamente professionalizzante. Quello che succede in Afghanistan tutti i giorni è totalmente diversificato. Succedono tante cose diverse tra di loro e il valore aggiunto che si ha quotidianamente alla fine della giornata è veramente alto. Nella vita privata lo attendono sempre a Piacenza la moglie Carlotta, la figlia Camilla e un'altra bimba in arrivo. Per noi che portiamo le stellette, come tutti quelli che vivono nel comparto della difesa e sicurezza, è una missione nella missione. Avere una famiglia sono altre persone che di fatto fanno la loro missione. Purtroppo, ahimè, ahimè è così. Come abbiamo sentito dire tante volte negli ultimi mesi, essere alpino significa... Far parte di una grande famiglia.